Yo Willers, buah a tutti e bentornati sul canale, come sempre qui è il vostro Alas che vi parla, piacere di rivedervi. Siamo qui tornati per l'episodio numero 58 della nostra carriera su F1 Manager 2022 con la McLaren, round numero 13, GP dell'Ungheria, all'Ungaro Ring ovviamente. Se non avete visto l'ultimo episodio, il round numero 12, il GP di Francia al Paul Ricard, cliccate in questo momento nell'angolo in alto a destra e recuperatelo prima di dare un'occhiata a questo episodio. Non so più che cosa dire nelle intro dei video perché continuiamo a vincere, a portare a casa 1-2. Come detto in precedenza ho deciso di non portare più aggiornamenti, stanno arrivando gli ultimi aggiornamenti della stagione, ci stiamo già concentrando sulla vettura del 2025, anche se ovviamente noi non la vedremo mai, in quanto questa è l'ultima stagione della carriera. Voglio vedere quanto riusciamo a reggere senza aggiornamenti nella parte finale di stagione, quante gare riusciremo a portare a casa ancora. Attenzione perché a partire dai prossimi Gran Premi inoltre dovremo cominciare con la sostituzione dei componenti perché soprattutto con Charles Leclerc abbiamo componenti piuttosto usurati, quindi molta molta attenzione alle penalità. Ungaro Ring, Gran Premio completamente diverso rispetto agli ultimi a cui abbiamo partecipato, circuito da deportanza, la nostra una vettura teoricamente che dovrebbe essere molto buona anche a basse velocità, vediamo se riusciamo a confermarlo in questo Gran Premio. Come sempre vi chiedo naturalmente di lasciare un bel mi piace per supportare la McLaren, lasciate un commento qui sotto se volete col pronostico per la prossima gara, la prossima gara che è al Belgian Grand Prix, il Belgian Grand Prix a Spa-Francorchamps, il mio circuito preferito, circuito in cui molto probabilmente andremo a prendere una penalità con Charles Leclerc. Quindi lasciate il vostro pronostico e ovviamente se non siete iscritti al canale e vi piace questo tipo di contenuti, vi invito come sempre ad iscrivervi e a cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati sui nuovi contenuti, sulle nuove uscite del canale appunto. Quindi non perdiamo altro tempo, andiamo ad indossare, indossare, non indossare, indossare le nostre cuffie adatte in principle, clicchiamo su continua e andiamo ad impostare gli obiettivi prestazionali per questo fine settimana di gara. Ci siamo impostati gli obiettivi prestazionali, scendiamo in pista, inizia il weekend di gara del Lungarian Grand Prix. Lungaro Ring è in pieno fermento per la storica tappa ungherese del campionato di Formula 1. Fu inaugurato nel 1986 e venne costruito appositamente per eventi sportivi. Splendido! Un insidioso susseguirsi di curve, questo è Lungaro Ring, un circuito con pochissimi rettilinei, per alcuni quasi un tracciato da go-kart. I piloti dovranno trovare il ritmo più adatto e per le vetture sarà cruciale la deportanza a basse velocità. La stagione è quasi al giro di boa e la domanda sembra inevitabile. Cos'altro avrà in servo per le scuderie? C'è un solo modo per scoprirlo. La battaglia inizia! Ci siamo, siamo pronti per l'inizio delle prove libere. Prevista pioggia intensa al venerdì e pioggia leggera al sabato. Naturalmente dovremmo valutare se sarà presente durante le qualifiche al sabato. Proseguiamo e andiamo subito ad impostare il setup delle nostre due vetture. Impostati il setup delle nostre due vetture, essendoci tanta pioggia prevista, preferisco far correre i nostri piloti titolari, sia Leclerc che Lando Norris, per l'acclimatamento tracciato, perché essendoci tanta pioggia è possibile che non avremo tempo da spendere in stint troppo lunghi, quindi c'è bisogno che entrambi possano prendere parte a tutte e tre le sessioni di prove libere. Quindi pronti a scendere in pista, iniziamo il nostro venerdì di prove libere. Scendono in pista le nostre due vetture, entrambi con gomma rossa, poi utilizzeremo nella prossima fase di questa prima sessione di prove libere le gomme bianche. Non è prevista pioggia per questa FP1, quindi cerchiamo di accumulare quanto più acclimatamento tracciato possibile in questa sessione di prove libere. Noi, come sempre, ci rivediamo direttamente per l'inizio del sabato di qualifiche. Ci siamo, siamo pronti per l'inizio del sabato di qualifiche. Risultati delle prove libere, PL1, Verstappen, Gasly e Hamilton nelle prime tre posizioni, Leclerc e Norris in dodicesima e tredicesima, PL2, Leclerc davanti a Norris e Verstappen, PL3 con Norris davanti a Leclerc e Max Verstappen. Per quanto riguarda gli assetti, ancora non testati, stavamo ancora cercando di migliorarli, siamo arrivati ad un massimo di 97%. Vediamo se siamo riusciti, almeno in parte, a migliorarle. Questo è il setup di Charles Leclerc, questo è il setup invece di Lando Norris. Andiamo ovviamente a montare la gomma rossa, ma attenzione al meteo. Sarà molto importante gestire bene le nostre gomme e il tempo a nostra disposizione. Scendiamo in pista per l'inizio del Q1. Radio check completato in questa sessione non è prevista pioggia, quindi aspettiamo qualche minuto e poi scendiamo in pista. Scendiamo in pista e in questo momento Charles Leclerc davanti a Lando Norris. Probabilmente abbiamo scelto un momento non ideale, perché sta passando la Williams di Mick Schumacher che ha terminato il suo giro, però teoricamente dovrebbe rientrare, presuppongo, al termine del giro, quindi non dovrebbe intralciarci. Vediamo. Leclerc un po' di traffico l'ha incontrato di una Alfa Tauri e vediamo in che posizione va a concludere. In quarta posizione con Lando Norris in decima posizione. E ora mi sto ricordando che non ho modificato i componenti. Non è un problema. La gara sarà molto più combattuta, dai, per lo spettacolo. Sembra quasi a volte che lo faccia apposta, ma ci sono talmente tante cose da prendere in mano che purtroppo mi dimentico. Vediamo. Teoricamente forse siamo in grado di cambiare i componenti, di cambiare i componenti tra le sessioni, il che è una grandissima cavolata, perché teoricamente non si dovrebbe avere il tempo. EF1 Manager ancora non calcola il tempo tra le sessioni. Quindi questo è un errore. Vediamo. Vediamo intanto se riusciamo a qualificarci con entrambe le vetture, perché Lando Norris è dietro, in undicesima posizione. Mancano meno di tre minuti al termine della sessione. Lando Norris è a rischio. In quindicesima dobbiamo scendere in pista con gomma nuova, con Perez che è rientrato ora ed è in sesta posizione. Quindi noi siamo a rischio più che altro con Gasly, perché Albonzuno da Latifi e Mick Schumacher non credo che possano battere il nostro tempo. Vediamo. Purtroppo sfruttiamo una gomma nuova in più con Lando Norris. Vediamo se riusciamo a qualificarci. Lando si è migliorato nel primo, non nel secondo settore. Vediamo il suo tempo sale in decima, migliora nettamente invece di tre decimi, probabilmente anche in contrato traffico. Quindi siamo tranquillamente qualificati per il Q2. Ora il problema sta nel vedere se possiamo montare i componenti più nuovi. Questi qualificati, Verstappen Hamilton nelle prime tre posizioni, Leclerc in ottava, Lando in undicesima, gli eliminati, Botta Salbon, Latifi Tsunoda e Mick Schumacher. Andiamo a provare a montare i componenti più nuovi. La sessione sarà con le intermedie sotto la pioggia. 97% per quanto riguarda Charles Leclerc, 96% per quanto riguarda Lando Norris, quindi non siamo riusciti a raggiungere il 100%. Comunque, regolazioni bloccate. Regolazioni bloccate, quindi teoricamente se montiamo i componenti più nuovi avremo una penalità. Andiamo a vedere cosa succede. Installa sulla vettura e proviamo ad avanzare. Avviamo le qualifiche, gestisci. No, prima montiamo tutti i componenti e poi valutiamo prima di scendere in pista. Quindi l'RS più nuovo per quanto riguarda Charles Leclerc, la scatola del cambio più nuova. Stiamo montando componenti che comunque avevamo già, quindi non stiamo prendendo nuovi componenti. Vediamo se ciò implica, come detto in precedenza, una penalità o meno. Sono prove anche queste. Per quanto riguarda il cambio, direi di lasciare quello al 100%. Installiamo sulla vettura quello all'80% con Lando Norris e proviamo. Vediamo se scontiamo una penalità. Sembra di no. Gestisci qualifiche due. Quindi ci andiamo in pista con i pezzi nuovi. Non è successo niente. Ora andiamo a vedere il meteo. Sembra che smetta di piovere, quindi a questo punto io direi di montare gomma rossa usata per Charles Leclerc e con Norris sono sceso in pista ora con la gomma intermedia. Proviamo a valutare se la pista sarà buona per le intermedie oppure dobbiamo per forza effettuare un giro poi con la gomma rossa. La pioggia sta terminando, ma sembra che stia durando abbastanza. Usiamo le gomme intermedie usate per quanto riguarda Charles Leclerc e scendiamo in pista per effettuare anche con lui un giro con la gomma intermedia. Non voglio utilizzare troppe gomme intermedie perché chissà che non servono anche durante la gara anche se sembra che il meteo metta sereno. Vediamo che tempo riusciamo a portare a casa. Lando trova il traffico del compagno di squadra in mezzo. Leclerc che sta partendo con il suo giro e Lando Norris chiude in prima posizione con un 1.2298. Ovviamente ora si rientrerà in ibox e andremo a montare la gomma rossa per effettuare il tentativo finale della sessione proprio al termine. Charles Leclerc sta andando a completare il suo tentativo con la gomma intermedia. Quarta posizione per lui. Ha incontrato molto traffico. Un secondo e sei da Hamilton. Quindi ora aspettiamo un po' e poi spero si monti la gomma la gomma da asciutto perché comunque il meteo ci dice che è asciutto però continua ad esserci pioggia sulla pista. È il momento di scendere in pista. Sta scendendo in pista una Red Bull con Norris. Scendiamo. No, non scendiamo in pista perché mi pare che abbia fatto il giro. Però è un rischio comunque. Usciamo con la gomma già usata. Abbiamo già usato il terzo treno di gomme intermedie con Lando Norris mentre iniziamo usando un terzo treno di intermedie nuove con Charles Leclerc. Qualifiche veramente molto molto complicate per la McLaren quest'oggi. Stiamo rischiando tantissimo. Mi sembrava di aver premuto il tasto per Norris per rientrare in pista e purtroppo non l'ho fatto. Quindi stiamo rischiando che alla fine che Norris non sia qualificato. Leclerc, primo settore fucsia secondo verde quindi lui passerà il turno. Ora il grosso rischio è che Norris scrolli perché i tempi ora sono molto molto migliori e probabilmente Norris non sarà qualificato. Che brutto errore da parte nostra. Che brutto errore Norris non qualificato. Attenzione, Perez e Alonso non hanno migliorato però purtroppo stanno arrivando tutti. Gasly si mette davanti Norris in nona posizione. Ci salviamo forse. No, c'è Russell che sta terminando il giro. C'è Russell che sta terminando il giro e sicuramente andrà a passarci perché non c'è pioggia. Norris eliminato. Norris eliminato in undicesima posizione con Leclerc in prima. Errore. Brutto errore. Sarà una gara di rimonta per Lando Norris. Con lui naturalmente andiamo a questo punto visto che partiamo fuori dai punti a sostituire i componenti. Lo facciamo in questa gara così non lo dovrà fare nelle gare successive. Proseguiamo. Proseguiamo. Scendiamo in pista per l'inizio del Q3. Che qualifiche veramente veramente strane quest'oggi. Abbiamo praticamente sbagliato ogni cosa possibile. Gomma rossa. Vediamo di montare ovviamente gomma rossa nuova visto che ne abbiamo a volontà e scendiamo in pista con Charles Leclerc e scendiamo subito in pista per il tentativo. Vediamo che non ci sia pioggia. Scendiamo subito in pista e proviamo il primo tentativo. Leclerc ha purtroppo incontrato traffico di Sainz. Primo e secondo settore Fuchsia. Vediamo che tempo va a chiudere. 1.14.4 mi sembra un tempo abbastanza elevato. Vediamo con che tempo chiudono gli altri e comunque abbiamo un secondo tentativo a nostra disposizione. Stanno scendendo tutti in pista. Leclerc è in prima posizione davanti a Ricciardo e Sainz con Verstappen in quinta posizione quindi strana la classifica alla fine non avevo notato neanche Perez si è qualificato e era dietro Norris comunque è vero perché è sceso in pista tardi. Vediamo se Leclerc riesce a difendere questa pole position. Leclerc sta andando a chiudere. Primo settore Fuchsia secondo verde ma Verstappen lo ha battuto ma Leclerc si riprende la prima posizione. 1.14.1 136 millesimi di vantaggio su Verstappen 3 decimi quasi 4 di vantaggio su Carlos Sainz e quindi possiamo confermare che per Charles Leclerc è pole position dopo tutto quello che è successo in queste qualifiche non male peccato per Lando Norris ma lui andrà a scontare la penalità e ora ovviamente il problema con Lando è che non possiamo utilizzare un non possiamo prendere un cambio nuovo perché ne abbiamo uno al 100% e utilizzeremo quello molto probabilmente il problema è partire dal fondo in una gara del genere un grosso grosso problema per Lando Norris graduatoria finale Leclerc Verstappen Sainz Hamilton Ricciardo Gasly Russell Guany Joe Ocon e Lance Stroll poi eliminati nel Q2 come detto Norris poi Perez Alonso Fettele Magnussen Bottas Albon Latifi Zuno De Mick Schumacher nessuno con penalità scendiamo in pista inizia la domenica di gara Siamo arrivati al giorno della gara squadra e piloti sono quasi pronti la McLaren è stata protagonista di una prestazione spettacolare nelle qualifiche e di sicuro spera di poter dominare anche oggi in gara prestazione discreta nelle qualifiche per la Ferrari che potrà sicuramente sfruttare il risultato a suo vantaggio durante la gara il cielo è coperto di nuvole i team sembrano preoccupati perché potrebbe piovere da un momento all'altro oggi sarà fondamentale saper cambiare strategia in corsa la folla qui all'ungaro ring è in attesa del semaforo verde non resta che dare il via alla gara pronti alla partenza di questa domenica di gara naturalmente andiamo a caricare al massimo il carburante qui la consumo è molto molto elevato opzioni pilota ovviamente andiamo a forzare al massimo con entrambi i nostri piloti con Lando che parte in undicesima teoricamente potremmo anche farlo partire lì però sinceramente preferisco prendermi la penalità visto che si trova fuori dai punti andiamo a montare un motore nuovo ovviamente spendendo un milione di dollari e lo montiamo immediatamente e anche un ERS nuovo direi che può arrivare in fondo praticamente con con questi ERS peccato peccato perché naturalmente non possiamo montare una scatola del cambio nuovo perché non abbiamo un componente non usato e lo utilizziamo in questa gara quindi si dovrà prendere 5 posizioni di penalità per il cambio se non sbaglio 5 nelle prossime gare comunque il nostro Orlando Norris ha i componenti comunque al massimo può fare un'ottima gara di rimonta mentre per quanto riguarda Charles Leclerc componenti molto molto buoni andiamo a vedere le strategie sembra da media a hard la strategia più scelta quindi partiamo con questa strategia al trentesimo giro ci fermiamo e montiamo la hard mentre ovviamente andiamo a cambiare la strategia per quanto riguarda il nostro Orlando Norris andiamo a montare prima la gomma hard per poi montare la media quindi 40 giri va più lungo con la hard Orlando Norris e cerca di effettuare degli overcut nei confronti delle vetture più lente aggiorniamo la nostra strategia e pronti a scendere in pista con entrambi i nostri piloti avviamo la domenica di gara avviso penalità lo sappiamo grazie mentre i piloti prendono posizione in pista nel cielo si può vedere qualche nuvola e ora Charles Leclerc oggi partirà davanti a tutti ma riuscirà a difendere la posizione Norris qui ancora più indietro ieri i suoi tempi erano tra i più alti quindi oggi partirà dalla seconda metà della griglia raccoglieranno il frutto dei loro sforzi tutto è pronto per il Gran Premio di Ungheria tre luci quattro luci cinque luci che si spengono in questo istante parte il Gran Premio con Leclerc vediamo se riesce subito a difendersi bene dal suo avversario però è partito fortissimo Verstappen sembra che sia all'interno proprio può tirare la staccata Max Verstappen ma la tira lunghissima Leclerc all'esterno andiamo a vedere le gomme soft per Hamilton e Sainz poi per altri piloti Norris l'unico con la hard ha già preso delle posizioni Lando Norris andiamo in aggressivo non andiamo a spingere troppo con Lando Norris andiamo in equilibrato attenzione perché Mick Schumacher prova a difendersi mentre per quanto riguarda Charles Leclerc per lui prima posizione prova subito a scappare nei confronti di Max Verstappen vediamo se riusciamo subito a scappare andiamo in standard però sulla gomma spingiamo sulla batteria e proviamo subito a prendere un po' di vantaggio ora andiamo in neutro perché in questo primo giro non è importante spingere bisogna essere fuori dalla zona DRS ovviamente all'inizio del terzo giro e poi qui il DRS non è così importante perché c'è solo una zona DRS o forse due forse anche dopo questa curva c'è la zona DRS comunque sono dei rettilini molto molto brevi sta iniziando il terzo giro e Leclerc sta allungando nei confronti di Max Verstappen un secondo e quattro vediamo ora di andare in equilibrata sul carburante cerchiamo di gestire la nostra vettura purtroppo Norris come era preventivabile ha dei problemi nell'effettuare i sorpassi nei confronti dei piloti là davanti soprattutto perché Latifi monta gomma soft quindi è molto veloce in questa primissima fase di gara vediamo se riusciamo in uscita a prendere la posizione ma non sembra che riusciamo a effettuare questa strategia probabilmente potremmo anche pensare ad una strategia alternativa con Lando Norris fermarlo anche molto prima cercare di spingere con pista libera per poi effettuare gli overcut e fare una strategia a due soste può essere però molto molto difficile portare a casa una strategia del genere ci stiamo provando in tutti i modi ma stiamo perdendo tantissimo tempo purtroppo le As e le Alfa Romeo se ce ne troviamo davanti perdiamo veramente tanto tempo chissà se è stata la scelta giusta effettuare questa strategia ora ci prova all'esterno che poi diventa interno nei confronti di Latifi stiamo praticamente terminando la batteria e purtroppo non riesce a portare a casa questo sorpasso Lando Norris andiamo on board ha tantissimi problemi nel portare a casa questo sorpasso perché Latifi continua a resistere all'interno e forse stavolta ce l'abbiamo fatta forse stavolta ce l'ha fatta in staccata dovrebbe riuscire ad uscire forte ora però ora il problema è che dobbiamo andare in accumulo dobbiamo andare in accumulo sorpasso di Latifi scusate di Norris nei confronti di Latifi ma ora dobbiamo andare in accumulo e cercare di gestire Latifi alle spalle e soprattutto ricaricare la nostra batteria guardate come Latifi già si è affiancato e quindi si riprende la posizione purtroppo purtroppo si è già ripreso la posizione il pilota della AS vediamo se in staccata riusciamo a difenderci vediamo se riusciamo a difenderci qui in staccata ma Latifi ha proprio più trazione ci dobbiamo riprovare qui all'interno vediamo la staccatona di Lando Norris che ci prova ci prova nuovamente dobbiamo forzare dobbiamo forzare per portare a casa questo sorpasso perché Latifi continua a crearci problemi e ora andiamo in neutro e poi cercheremo nelle prossime fasi di recuperare un po' di carica della batteria per effettuare i sorpassi sulle vetture là davanti lungo di Leclerc errore di Charles Leclerc è una gara da incubo e poi non rientra in pista in fondo al gruppo Leclerc addirittura dietro Norris incredibile che incubo questo gran premio ragazzi con Hamilton che si è preso la vetta e sta togliendo il DRS a Max Verstappen un disastro questa gara finora veramente un disastro ora sarà molto molto complicato riuscire addirittura a terminare in zona punti sarà veramente veramente complicato riuscire a terminare in zona punti dobbiamo metterci in fase di gestione e cercare di andare quanto più lunghi possibili con entrambi i nostri piloti andiamo in accumulo con Lando Norris vediamo se Charles riesce ad effettuare qualche sorpasso a rimontare nei confronti di Nicolas Latifi ma che disastro poi qua in Ungheria in cui è praticamente impossibile sorpassare un disastro completo c'è stato un incidente bandiera gialla con Leclerc che sta provando a rimontare l'incidente di Guanyu Joe che è finito proprio dietro Charles Leclerc quindi posizione gratuita per noi in questo momento Leclerc sta cercando di rimontare lo stiamo facendo spingere per riprendere il DRS nei confronti di Latifi c'è un trenino incredibile che porta da Norris fino con il treno DRS fino a Magnus e Nialo un suo nuovo giro veloce intanto per Charles Leclerc però purtroppo è impossibile perché poi c'è un distacco da Magnus e Nastrol con la con la Ston Martin che sta andando veramente fortissimo un distacco di tre secondi e mezzo quindi più rimaniamo alle spalle di questi piloti più perdiamo tempo forse la strategia ideale sarebbe quella di effettuare una strategia a due soste però valutiamo ancora qualche giro e vediamo come comportarci siamo in fase d'attacco ora con entrambi i nostri piloti stiamo provando a effettuare dei sorpassi Norris ora ci prova nei confronti di Bottas non abbiamo più batteria ma ci stiamo provando comunque Norris riesce a prendersi la quattordicesima Leclerc ci sta provando nei confronti di Bottas ma purtroppo come detto non abbiamo batteria quindi dobbiamo cercare di effettuare i sorpassi senza la batteria dobbiamo andare in accumulo in questa fase proviamo a spingere al massimo sul carbonante poi lo gestiremo nelle prossime fasi di gara e proviamo a metterci in accumulo sulla batteria ricaricare perché poi dobbiamo andare a riprendere la posizione su Albon a prendere la posizione su Albon con Norris ora proverà Norris l'attacco nei confronti di Albon vediamo se ci riesce solo con il DRS ci prova lo porta a casa e ora purtroppo abbiamo Leclerc che deve liberarsi delle due Alfa Romeo e Norris che deve recuperare nei confronti di Ocon dobbiamo spingere al massimo probabilmente passeremo ad una strategia a due soste con i nostri piloti potremmo pensare di passare ad una strategia a due soste per avere comunque la possibilità di spingere quanto più possibile con le gomme una volta montate dobbiamo cercare dobbiamo cercare una strategia alternativa Verstappen in prima posizione da Verstappen a Stroll sono tutti incollati ma poi 4 secondi e mezzo da Magnussen tra Stroll e Magnussen quello è il distacco che dobbiamo cercare di andare a colmare Leclerc sta cercando di ricaricare la sua batteria ora Norris si è ripreso il DRS nei confronti di Ocon ricarica e poi riandrà in fase d'attacco per cercare di perdere quanto meno tempo possibile Siamo al dodicesimo giro Lando in tredicesima con Leclerc in quattordicesima siamo nel treno DRS vediamo ovviamente ora se riusciamo ad effettuare qualche altro sorpasso perché sono lenti comunque qua Stroll si è distanziato dal gruppo quindi pian piano Alunso e Perez stanno rimontando dobbiamo cercare di raggiungere Sergio Perez per provare a fare qualcosa di buono ora con Norris possiamo forse andare in fase di attacco ci mettiamo in equilibrata sul carburante con Lando Norris mentre con Leclerc continuiamo a spingere Leclerc si fermerà ovviamente prima visto che monta la gomma gialla probabilmente con Leclerc sarà una strategia gialla gialla rossa la nostra mentre con Norris possiamo ancora valutare se effettuare una strategia a due o a una sola sosta visto che ancora monta la gomma hard dovremmo però probabilmente gestire molto bene la gialla nel secondo stint Lando in fase di attacco attenzione che sta provando l'attacco nei confronti di Fett l'ha preso la posizione nei confronti di Ocon undicesima posizione ora per Lando Norris con Fett che prova a resistere con la gomma rossa si trova ancora all'interno Fett purtroppo si trova Magnussen che fa da blocco Lando Norris però esce forte comunque Lando andiamo on board con Lando Norris che ora all'interno dovrebbe riavere un'altra volta all'interno e forse si prende ora la posizione vediamo se prova a resistere Fett ancora prova ancora a resistere ma stavolta si prende la posizione Norris e prova anche l'attacco nei confronti della Haas andiamo al massimo attacco anche con Charles Leclerc proviamo ad andare al massimo attacco anche con Charles Leclerc dobbiamo cercare con Norris ora a decima posizione Norris in decima attenzione perché se passiamo a Lons e ci incolliamo a Perez possiamo pensare anche di recuperare nei confronti di Stroll e con Norris possiamo pensare di fare una strategia comunque ad una sola sosta mentre con Leclerc è troppo troppo complicato forse fare una strategia ad una sola sosta valuteremo comunque ed eccolo Lando non ha posizione per Lando Norris non ha posizione per Lando Norris andiamo ora in fase di accumulo e andiamo a gestire la nostra gomma proviamo a stare alle spalle di Perez no ci provindiamo alla posizione nei confronti di Perez forse no non ce la facciamo non ce la facciamo ora andiamo quindi in leggero e in accumulo sulla batteria proviamo a gestire mentre con Leclerc continuiamo a spingere abbiamo Ocon e Alonso che ha perso svariate posizioni full attack per Charles Leclerc in questa fase full attack per Charles Leclerc e poi valuteremo naturalmente quale sia la strategia migliore per il pilota Monegasco tredicesima posizione va a passare ora Esteban Ocon Leclerc è salito in undicesima passato entrambe le Alpine più Magnus in attenzione batteria scarica per Charles probabilmente non riesce ad effettuare l'attacco nei confronti di Vettel che addirittura sta andando all'attacco di Norris Norris attenzione deve cercare di difendersi e provare anche l'attacco nei confronti di Sergio Perez siamo incollati Norris e Vettel continua a provare l'attacco attenzione che Norris non riesca magari a portare poi l'attacco nei confronti di Sergio Perez prova ad uscire forte da qui Norris andiamo on board vediamo se ci può riuscire stiamo andando a prendere Stroll che ormai è crollato ma non riusciamo a prendercela qui la posizione quindi andiamo in standard in neutro con Norris proveremo l'attacco al più presto e ora Leclerc deve cercare al contempo di andare all'attacco di Sebastian Vettel per l'anno è arrivato il momento di andare full attack per cercare il sorpasso su Perez cercare il giro veloce magari e Perez rientra in questo momento però ci prendiamo il DRS e ora spinta massima con entrambi spinta massima con entrambi si fermano quelli con le rosse che non so se possano avere andiamo in aggressivo con Leclerc per cercare di non spingere al massimo ma ora dobbiamo per qualche giro cercare di spingere al massimo con entrambi i nostri piloti vediamo se no con Norris andiamo in leggero andiamo in leggero in equilibrata in neutro con Norris in questa fase e cerchiamo di far agganciare Leclerc siamo in quinta e sesta posizione proveremo pian piano a rimontare la davanti mentre Ricciardo sta facendo una gara pazzesca insieme a Max Verstappen vediamo se Leclerc riesce a riavvicinarsi e se ci prendiamo il DRS poi proviamo a recuperare nei confronti di Russell con Lando Norris che proverà a trainarsi dietro Charles Leclerc anche se Charles sarà molto probabile che si fermerà tardi attenzione perché quelli con la gomma rossa montano la hard quindi con Leclerc possiamo andare sull'unica sosta con Leclerc possiamo andare sull'unica sosta attenzione traiettoria larga per Charles Leclerc ha perso ancora è andato a muro è andato a muro Charles vediamo un po' diamo un'occhiata alla McLaren purtroppo con questo errore perderà tempo prezioso a questo punto gara praticamente finita per Leclerc è sceso nuovamente in decima posizione stava cercando di spingere per rimanere incollato a Lando Norris gara disastrosa per Charles Leclerc quest'oggi gara veramente disastrosa a questo punto cerchiamo di allungare lo stint con la gialla montiamo la bianca e speriamo in qualche modo riesca a rimontare ma sarà veramente molto molto complicato perché ora si trova dietro Hamilton che ha già effettuato il suo p-stop con Lando Norris stiamo perdendo stiamo perdendo tanto quindi andiamo al massimo e potenza cominciamo a spingere proviamo a velocizzare questa parte ad avvicinarci a Russell podio praticamente impossibile in questa gara e se non sbaglio sarebbe la prima gara di questa stagione in cui non arriviamo a podio Charles nelle ultime curve finestra box tra due giri per lui quindi teoricamente può andare con la strategia a una sola sosta va a montare la gomma hard siamo arrivati abbastanza lunghi quindi dai andiamo con una sola sosta magari può pensare di arrivare a punti se gli altri fanno una strategia a una sola sosta a due soste quindi boxing di slap per Charles Leclerc in una gara veramente molto complicata con Norris che si è messo alle spalle di Russell sta ricaricando le batterie per cercare di naturalmente poi di portare l'attacco per la quarta posizione mentre Leclerc rientra in box monta gomma bianca e arriverà fino in fondo dovrà gestirlo un po' meglio perché sono 44 giri per lui da fare con quella gomma e va a montare il p-stop è velocissimo due secondi e tre rientriamo molto probabilmente in quattordicesima posizione davanti a Nicolas Latifi perlomeno lo spero perché altrimenti rischiamo davvero di essere troppo troppo bloccati da quei piloti fortunatamente ce la facciamo quindi ci faremo trainare da Alonso proviamo ora subito a metterci in standard in equilibrata e in neutro perché dobbiamo gestire assolutamente il carburante con il pilota Monegasco Perlando è arrivato forse no al prossimo giro il momento di attaccare Russell per provare poi ad accorciare nei confronti di Gasly perché ci giochiamo il podio con quella posizione attenzione Verstappen penso che sia imprendibile forse prendibile Ricciardo attenzione perché prova l'attacco comunque Lando vediamo se riusciamo ad uscire forte per prenderci la posizione provare comunque a stare davanti al pilota della Ferrari sembra di sì a questo punto proviamo ad attaccare a distanziare Russell per non lottare con lui e vediamo se riusciamo ad andare a riprendere Pierre Gasly praticamente ripreso Pierre Gasly in due giri siamo in zona di RS con lui quindi standard di accumulo ci rimettiamo in fase di accumulo della batteria di modo che comunque poi avremo la batteria attenzione Verstappen ai box Verstappen ai box è il primo a fermarsi ai box vediamo se si ferma anche Ricciardo Gasly si ferma ai box purtroppo quindi dobbiamo forzare ancora dobbiamo metterci in fase di attacco perché dobbiamo cercare di metterci a tiro di DRS con Ricciardo che però probabilmente si fermerà al prossimo giro quindi ci mettiamo in neutro attenzione settore 1 bandiera gialla settore 1 bandiera gialla c'è un incidente se c'è una safety adesso può essere un gran vantaggio per Lando incidente di Perez andiamo a vederlo completamente sbagliata la frenata per il messicano della Red Bull che penso comunque sia ancora in gara sì perché si va a fermare ai box si sono fermati tutti Norris in seconda posizione scusate lo mettiamo in standard in neutro con Leclerc invece stiamo cercando di gestire per quanto possibile però credo che nonostante P-Stop mantenga la 14esima piazza vediamo no Perez con le riparazioni da effettuare recuperiamo posizioni Leclerc e davanti anche a Docon stiamo andando a prendere il DRS nei confronti di Alonso e ciò vorrebbe dire P10 vorrebbe dire P10 per Charles Leclerc quindi ci mettiamo in leggero ora ci mettiamo a caccia di di Fernando Alonso qualche punticino forse possiamo racimolarlo con Leclerc l'obiettivo è assolutamente riuscire a terminare a podio con Lando Norris attenzione a Hamilton che ha un netto vantaggio nei confronti di Verstappen però io non so se Hamilton vada sull'unica sosta perché ha una gomma all'82% Ricciardo si ferma i box come potevamo immaginare e ora da vedere se Lando Norris riesce a tenere un buon passo con questa gomma Norris raggiunto da Hamilton pian piano sta arrivando su anche Verstappen Verstappen è il candidatissimo per vincere questa gara voglio farmi passare da Hamilton e provare a farmi trainare da lui perché poi arriverà probabilmente Verstappen oppure proviamo ad andare in aggressivo già a trainarci Hamilton di modo che magari Verstappen rimanga un po' lontano il nostro obiettivo è comunque avere un buon passo per riuscire a riprendere Ricciardo e Gasly nella seconda parte di gara vediamo se saremo in grado di fare questo per giocarci il po' di attenzione perché anche Sainz e Russell stanno risalendo molto bene Leclerc invece si trova a un secondo e 4 da Vettel poi avremo 5 secondi da rimontare da recuperare nei confronti di Stroll per l'ottava posizione quindi non siamo messi neanche così male con Charles Leclerc possiamo pensare comunque di concludere con un po' di punti in saccoccia è passato Hamilton attenzione perché dobbiamo spingere al massimo abbiamo già quasi perso il DRS nei confronti di Hamilton e non è quello che vorrei quindi andiamo in potenza andiamo anche a spingere sul carburante in questa fase con Lando Norris per allungare ancora di 1 o 2 giri il nostro stint con questa gomma bianca Charles Leclerc ha appena effettuato il giro più veloce è salito in nona posizione effettuato il sorpasso su Fettest andando a prendere Stroll per l'ottava poi vediamo se saremo in grado di andare a riprendere anche le Ferrari Norris in terza si trova alle spalle di Hamilton e Verstappen si sta facendo trainare ma alla fine del giro si ferma 39esimo giro va benissimo aver allungato così tanto boxing di slap per la gomma gialla speriamo di riuscire a rimontare alla grandissima perché penso che ci troveremo alle spalle di entrambe le Ferrari credo comunque davanti a Lance Stroll quindi c'è una buona possibilità nella seconda parte di gara di riuscire a rimontare attenzione settore 2 bandiera gialla una safety car in questo momento sarebbe oro colato purtroppo non avviene quindi Lando Norris in questo momento rientra i box bloccaggio di Vettel che era alle spalle di Leclerc quindi non è un vantaggio per noi eccolo Norris al suo pit stop 2 secondi e 4 il pit stop di Norris passa Gasly stanno arrivando le due Ferrari saremo davanti a Stroll con Leclerc che ha quasi preso il DRS nei confronti del pilota canadese dell'Aston Martin passano come detto entrambe le Ferrari vediamo ora che passo avrà Lando Norris comunque già una buona rimonta considerando che partiva in fondo vediamo ora se riusciamo a rimontare nei confronti di Russell e Sainz e poi provare a giocarci il podio con Gasly e Ricciardo Leclerc on board con lui per tentare il sorpasso nei confronti di Stroll dovrebbe essere molto molto semplice effettuarlo infatti è così passato Stroll ottava posizione per Leclerc che ora si trova appena alle spalle del compagno di squadra comunque di 5 secondi posizione guadagnata con Leclerc difficile andare a riprendere le due Ferrari ci proverà sicuramente abbiamo già messo praticamente un secondo tra noi e Lance Stroll e questo è importante di modo che non possa crearci dei problemi Lando Norris pian piano sta guadagnando nei confronti delle due Ferrari attenzione perché Sainz ha perso il DRS di Russell dopo aver subito il sorpasso quindi andiamo all'attacco ora con Lando Norris ci prendiamo easy la sesta posizione di Carlos Sainz e poi proveremo l'attacco nei confronti di Russell per la posizione P5 per la P5 e poi dobbiamo rimontare nei confronti di Gasly 46esimo giro siamo messi ottimamente per pensare di andare a lottare per il podio attenzione perché Ricciardo è comunque molto molto veloce Mercedes Mercedes scusate sta facendo una gara veramente incredibile con Verstappen che ha passato Hamilton e se ne è andato 6 secondi di vantaggio quindi difficile andare a riprendere sia Verstappen soprattutto Verstappen ma anche Hamilton attenzione perché sta provando l'attacco Lando e a questo punto glielo facciamo portare a termine perché dovremmo riuscire a prenderci la posizione nei confronti di Russell e quindi ora ci prendiamo la posizione proviamo subito a scappare per non venire disturbati nella zona DRS surpasso quindi da parte di Lando Norris Leclerc pian piano sta rimontando nei confronti di Sainz che non ha il DRS Sainz i box strolla i box avevo ragione alcuni piloti sono con una strategia a due soste tra cui Hamilton molto probabilmente gomma al 59% non credo che riesca a resistere quindi probabilmente Norris è in P4 net P4 e potrebbe giocarsi la P3 con Gasly ma secondo me possiamo tranquillamente giocarci anche la posizione con Daniel Ricciardo Leclerc recupera posizioni no non ne recupera perché Strolle e Alonso sono in settima non credo riesca a recuperare posizioni nei confronti di Hamilton Charles Leclerc però vedremo naturalmente Hamilton avrà sicuramente una gomma molto più nuova rispetto al nostro pilota Monegasco ed eccolo Hamilton ai box eccolo Hamilton ai box quindi Norris in net P4 gli stiamo facendo ricaricare la batteria per cercare poi un attacco più semplice nei confronti di Pierre Gasly e magari riuscire a rimontare anche nei confronti di Daniel Ricciardo vediamo se Hamilton va dietro Leclerc sta uscendo Hamilton quindi forse appena davanti al pilota Monegasco potrebbe essere un buon traino però per noi potrebbe essere Leclerc davanti in questo momento però potrebbe essere un ottimo traino Lewis Hamilton con gomma gialla nuova quindi nel caso ci dovesse passare cerchiamo per quanto possibile di mantenere la scia della pilota sette volte campione del mondo effettuato il sorpasso di Norris nei confronti di Gasly ecco qui stiamo vedendo Lando Norris una mossa coraggiosa ma che vale una posizione in più in gara e bravo Lando nel sorpasso e questa è la posizione sul podio e ora andiamo a rincorrere Daniel Ricciardo vediamo se riusciamo Leclerc sta cercando di tenere il DRS di Hamilton è un compito veramente molto molto arduo andiamo in standard e in neutro perché non possiamo neanche consumare troppo la batteria anche se fosse qualche giro potrebbe aiutarci a accorciare nei confronti di George Russell ma soprattutto di allungare dietro o con comunque a diciassette secondi con Sainz subito alle calcani e quindi sarà difficile per Sainz riuscire a rimontare vediamo se riusciamo a rimontare nei confronti di Russell e di Gasly con il pilota monegasco Norris già sta guadagnando tantissimo però ora perde un po' di tempo nei doppiaggi ma sta già guadagnando tantissimo nei confronti di Daniel Ricciardo ok Ricciardo e Norris sono in lotta tra di loro stiamo cercando di risparmiare le nostre modalità con entrambi i nostri piloti con Norris per tentare l'attacco nei confronti di Ricciardo anche se guardate com'è facile l'attacco nei confronti di Ricciardo lo potremmo tentare comunque più facilmente naturalmente con una batteria un po' più carica andiamo anzi in accumulo con Lando Norris settore 1 bandiera gialla forse proprio davanti a Lando Norris con Leclerc che si è incollato a Russell e ora prova l'attacco addirittura vediamo se con accumulo riusciamo comunque a mantenere la scia della pilota attenzione perché invece ha rallentato tantissimo Charles per colpa di un errore davanti di George Russell e purtroppo stiamo perdendo anche nei confronti di Gasly quindi la quinta posizione è un po' complicata Hamilton sta recuperando tantissimo nei confronti di Norris e di Ricciardo attenzione perché qui ci giochiamo la seconda piazza ma Hamilton è veramente molto molto veloce in questa fase di gara ci siamo con Leclerc è riuscito a riprendere Gasly per una top 5 insperata addirittura va all'attacco ma lo abbiamo messo in fase di accumulo naturalmente perché io non so ma forse potremmo addirittura pensare di andare a provare a riprendere Daniel Ricciardo è difficile 4 secondi abbiamo una gomma molto molto usurata con Charles Leclerc in questo momento ma chissà che magari non faccia anche un errore Ricciardo che ora viene passato da Hamilton e attenzione perché Hamilton è a 2 secondi da Lando Norris differenza di gomma netta perché Norris ha un 50% di gomma Hamilton stessa gomma al 71% quindi sarà una lotta per giocarci la seconda posizione in questa fase finale della gara andiamo al massimo sul carburante proviamo a spingere un po' di più per ritardare il momento in cui il pilota della Mercedes avrà la possibilità di riagganciarci ed ecco l'è arrivato Lewis Hamilton è arrivato vediamo se riusciamo a difendere la nostra seconda piazza andrebbe benissimo una terza considerando da dove è partitolando e considerando come stava andando la gara Leclerc è riuscito a ripassare Gasly dopo che aveva subito il sorpasso raggiungere Ricciardo è veramente complicatissimo ma potrebbe succedere di tutto vediamo quest'ultima fase di gara ed eccolo che il momento è arrivato Orlando deve attaccare qui nel dritto nel primo rettilineo nel secondo è un po' lontano Lewis Hamilton ci proviamo magari nel secondo Verstappen inizia l'ultimo giro e anche per Charles è arrivato tra pochissimo il momento di andare all'attacco andiamo al massimo andiamo in spinta massima su tutte le modalità per quanto riguarda i nostri piloti Lando Norris effettua il sorpasso in questo momento deve cercare ora di mantenere la posizione anche perché può sfruttare il DRS anche nella seconda zona mentre Leclerc purtroppo si trova davanti a Gasly quindi deve difendersi il pilota monegasco soprattutto nel secondo rettilineo mentre Lando Norris ha messo un secondo 2-1 tra sé Hamilton in questa primissima fase bravissimo anche Leclerc possiamo puntare una P2 e una P5 dobbiamo mantenere ora queste posizioni fino alla fine del giro Lando Norris con batteria scarica con il carburante che è finito attenzione rischiamo di rimanere fermi sull'arrivo praticamente ed è rimasto fermo ma è arrivato è arrivato clamoroso con Leclerc che riesce a chiudere la gara in quinta posizione e vince Max Verstappen e Verstappen chiude in testa bisogna ammetterlo neanche il suo critico più severo potrà negare che ha totalmente meritato la vittoria Lando Norris può sentirsi orgoglioso prestazione impeccabile la sua la squadra deve essere raggiante il podio è una grande conquista ed è stato pienamente meritato e dopo una gara di livello altissimo non sorprende che Lando sia andato a prendersi un podio più che meritato non sono solo i trofei a contare oggi ma i punti che alla fine potrebbero fare la differenza la McLaren ha dimostrato ottime doti buon risultato per la scuderia del Surrey già sono riusciti a unire strategia abilità tecnica e talento al volante hanno avuto un weekend eccellente dopo un weekend di emozioni la squadra è al primo posto della classifica costruttori la prossima gara ci porterà sul leggendario circuito di Spa Francorchon nel Gran Premio del Belgio può succedere di tutto e siamo riusciti a continuare con il nostro filotto di podi consecutivi dall'inizio della stagione con una grandissima rimonta di 18 posizioni per Lando Norris partiva in ventesima e è arrivato secondo dietro al solo Max Verstappen a 8 secondi e 2 quindi Lando nei giri finali ha guadagnato anche tanto nei confronti di Max Verstappen Hamilton completa in terza posizione l'unico dei primi 3 a effettuare due soste anzi l'unico dei primi 8 dei primi 7 a effettuare due soste poi Ricciardo Leclerc che nonostante tutto quello che è successo ma se l'è causato lui è riuscito a concludere comunque in quinta posizione partendo purtroppo dalla pole Gasly Russell Sainz Ocone Alonso i primi 10 poi a seguire Bottas Stroll Perez Guani Joe Albon Latifi Magnus Zunoda e Mick Schumacher giro veloce per Lando Norris a completare un buonissimo fine settimana classifica piloti Leclerc 280 Norris 221 accorcia comunque Lando Norris Verstappen accorcia nei confronti dei primi 2 ma è a quota 170 classifica costruttori comunque guadagniamo nei confronti di tutti 30 punti per la McLaren che sale 502 248 Red Bull 245 Ferrari Revisione di metà stagione naturalmente obiettivo centrato posizione desiderata terza posizione attuale prima posizione obiettivo vince il campionato costruttori progresso attuale primi stagione obiettivo 2026 stagione rimanenti 3 un milione e mezzo aumenta la valutazione della squadra e la fiducia del consiglio è elevata andiamo a assegnare il punto sviluppo di Lando Norris lo assegniamo in sterzata che sale ad 85 Duhan non ha punti sviluppo andiamo a vedere nel personale Pierre Roachet non ha punti sviluppo e neanche i nostri ingegneri di gara Enrico Balbo lo abbiamo assegnato nell'ultima gara quindi possiamo tranquillamente proseguire nel nostro calendario ricerca completata per le sospensioni oltretutto sono arrivate anche le sospensioni spec 4 e le abbiamo già montate sulla nostra vettura andiamo a ricercare un nuovo componente vettura per la prossima stagione direi un alettone posteriore che ancora non abbiamo visto questo è l'elemento alettone posteriore che andiamo a costruire 5 ingegneri a nostra disposizione 959 mila dollari spesi andiamo visto che ci siamo anche nelle nostre strutture andiamo a vedere la fabbrica che è da ristrutturare quindi spendiamo anche tanto per la nostra fabbrica abbiamo anche il simulatore di gara ma non abbiamo fondi sufficienti per andare alla ristrutturazione il centro meteorologico ugualmente no è in fase di sviluppo il centro di meteorologico in fase di ristrutturazione comunque punto sviluppo per charles clerc lo assegniamo in adattabilità che sale a 79 e proseguiamo sessioni di prove siamo all'anteprima del belgian grand prix molto probabilmente ci saranno altre penalità anche al belgian grand prix ma vedremo nel prossimo episodio ragazzi se vi è piaciuto questo episodio lasciate un bel mi piace commentate qui sotto fatemi sapere tutto ciò che volete se volete un pronostico per il belgian grand prix e naturalmente se siete nuovi sul canale vi invito come sempre ad iscrivervi e a cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati sui nuovi contenuti io vi ringrazio per la visione l'appuntamento round numero 14 circuit the spa franco champs il mio circuito preferito circuito spaventosamente bello l'università della formula 1 quindi non perdetevi il prossimo episodio grazie ancora ciao wheelers grazie a tutti Grazie a tutti.